Ci colleghiamo con l'Unione Industriale di Biella, dove è proprio in corso un evento al quale stanno partecipando diversi studenti. Sì, buongiorno, sono Francesco Ferraris, in effetti sono qui a Biella con alcuni dei ragazzi degli istituti superiori di Biella. Biella è conosciuta nel mondo principalmente per i tessuti che vengono fatti in questo territorio, o meglio per la qualità con la quale noi facciamo i nostri tessuti e ci rendiamo conto, ci siamo resi conto però negli ultimi anni che la qualità è un fil rouge che non collega soltanto i tessuti qua da noi, proprio perché è fatta come è stato raccontato nel video partendo dalle persone, persone che attraverso il sudore, attraverso generazioni e generazioni sono riusciti a creare una cultura di impresa che come dicevo non è più oggi esclusiva del tessile ma è tramandabile da tutti gli altri settori. Stiamo investendo sul turismo, stiamo investendo sull'enogastronomia, stiamo investendo su tante nuove opzioni che appunto ci consentono di guardare al futuro in maniera un po' più positiva, un pochino più aperta per consentire proprio ai ragazzi che oggi sono qua in sala di trovare sul nostro territorio il futuro dei prossimi anni. Ecco che oggi parleremo sì di esperienze, sì di passato ma con gli ospiti di oggi parleremo soprattutto di futuro e andremo a farlo con due dei protagonisti del video che abbiamo visto prima che sono Paolo Barberis Canonico e Marco Bardelle e lo faremo successivamente con una tavola rotonda tra quattro amici li definirei, ragazzi che stanno ancora facendo un percorso di studi come Antonio Camurati che allo stesso tempo è presidente di un importante gruppo nel territorio che è Be Young, lo faremo con Stefano Sanna, presidente del gruppo giovani imprenditori di Biella, lo faremo con Matteo Freisa, scusa Freisia, un giovanissimo operatore nel settore metalmeccanico e infine lo faremo con Lucia Bianchi Maiocchi, membro della famiglia e head of sustainability di Vitale Barberis Canonico, azienda che proprio nel tessile affonda le sue radici da più di 350 anni, giusto oramai? Ecco, quindi questo è quello che noi faremo oggi e grazie per la possibilità di farlo, credo che sia un'iniziativa interessantissima è molto importante da poter affrontare appunto con tutti loro oggi. Grazie, grazie anche a voi, insomma mi sembra davvero interessante il vostro programma. Bene, lasciamo il collegamento per il momento da Roma, riprendiamo a livello locale la nostra giornata e invito quindi sul palco Giuseppina Motisi, provveditore dell'ufficio scolastico di Biella. Buongiorno a tutti, buongiorno ragazzi, buongiorno a tutti i rappresentanti dell'Unione Industriale presente e grazie a Francesco Ferraris per aver pensato alla scuola in questa occasione. Prima di tornare al mio posto volevo condividere con voi alcune riflessioni, spero di non fare danni con questo schermo. Quando mi è stato chiesto di partecipare a questa giornata e mi è stato spiegato quale sarebbe stato il contenuto, mi ha colpito particolarmente un'espressione che abbiamo anche di fatto sentito nei vari interventi che è quella del volto umano dell'impresa. Questa frase, chiaramente alla luce anche di tutte le altre cose che mi sono state dette, mi ha portato a vedere quel filo che collega il mondo dell'impresa con il mondo della scuola. È un filo che sappiamo esistere, lo vediamo anche nelle diverse iniziative che negli anni si tengono unite le due realtà, ma mi ha permesso di guardare attraverso una lente nuova questo filo e questa connessione, perché se l'impresa decide di porsi attraverso il suo volto umano allora noi come scuola dobbiamo avere il coraggio di guardare alla nostra missione con una prospettiva diversa, che è quella di davvero supportare i ragazzi e quindi voi studenti nella scoperta delle vostre potenzialità e del vostro essere. Non è una cosa scontata, tant'è che sono dell'anno scorso le linee guida sull'orientamento da parte del ministero. Un orientamento che quindi ci dice che i ragazzi vanno affiancati non soltanto per guardare il futuro, perché guardare il futuro richiede necessariamente partire da una scintilla che è oggi e questa scintilla è aiutare ogni studente a trovare la propria motivazione, la propria ragione che porta come è stato detto in modo molto efficace ad innamorarsi di tutte le cose che fate. Non necessariamente voi oggi guardate al vostro futuro e sapete dare un'etichetta a quello che farete, ma attraverso lo scoprire oggi quello che vi rende vivi, domani riuscirete a fare qualsiasi cosa portando voi stessi. Quindi se il nostro compito è stare accanto agli studenti per scoprire le loro potenzialità e i loro talenti e se il mondo dell'impresa mette al centro il volto umano, allora credo di cogliere un aspetto molto importante che è quello del concetto di appartenenza. Pensare a un tessuto produttivo realmente efficace secondo me vuol dire creare il concetto di appartenenza e questo concetto nasce nel momento in cui si dà la possibilità a ogni studente di trovare la propria scintilla per il futuro. Ultima cosa, richiamando un concetto già detto in altre occasioni, talento è una cosa che io ci tengo davvero a sottolineare, talento toglietevi dalla testa che vuol dire fare qualcosa in maniera perfetta, non è questo il talento, talento è davvero arrivare a quella che io non riesco a spiegare in una maniera diversa da una frase di Luciana Littizzetto che è arrivare alla propria urgenza interiore, quindi io vi invito a fare questo agli docenti e agli studenti, aprirvi alla ricerca della vostra urgenza interiore ed arrivare a quello, e qui chiudo, che sento in queste mattine per radio in una pubblicità, non so di che cosa, non me lo ricordo, ma che può essere espresso in modo suggestivo in questa frase, passare dal dire cosa vorrei fare da grande a cosa vorrei fare di grande, quindi in questo di grande c'è stare nell'oggi e scoprire quell'urgenza. Vi ringrazio e torno al mio posto lasciando la prosecuzione dei lavori. Facile, bellissimi spunti però, assolutamente complessi, io stesso ancora oggi nonostante qualche anno che ho finito il liceo o comunque gli studi che ho fatto, faccio fatica, ecco un lavoro secondo me complesso e che dura durante gli anni, no? Cioè è qualcosa che probabilmente si trasforma, non è detto che la risposta che ci si può dare a 17-18 anni sia la stessa che poi ti dai a 30, a 40, a 50 anni. Ok, ci ho detto, andrei avanti con la giornata chiamando qui vicino a me Paolo e Marco. Paolo Barberis Canonico, amministratore delegato della, i microfoni sono qui, sì, della Pra Trevero SPA e Marco Bardello, amministratore delegato di Finissaggio e Tintoria 2000. Inizierei con Marco. Come avete visto Marco e Paolo erano due dei protagonisti del video che abbiamo visto prima e quindi inizierei chiedendo banalmente cosa ti ha portato a partecipare a questo video, ma in generale tu sei una persona molto attiva, no? Al di là della tua quotidianità lavorativa tu ti dedichi molto a quello che è il territorio, a quello che sono i valori che secondo te sono importanti che poi in qualche modo trasmetti a tutta una serie di persone e momenti della tua giornata. Ecco, che cosa ti spinge poi a fare tutto ciò? Grazie, grazie dell'invito. È un piacere poter dare questo contributo perché vorrei smarcare il punto focale dal mio punto di vista di questo incontro, il fatto di aver aperto le porte all'azienda, no? Perché quando sono entrato in azienda 15 anni fa era tabù fare entrare qualcuno all'interno, non deve nessuno vedere niente, nessuno deve sapere, nessuno deve guardare, anche i ragazzi e le scuole entravano ma capiamo chi sono, chi sono i genitori, chi era diventato come neanche entrare all'area 51 negli Stati Uniti. Per cui questa cosa va un po' stravolta perché sono molto più le cose che non entrano di quelle che escono nel momento in cui teniamo chiuse le porte. Aprire l'azienda per noi ha due fattori fondamentali. Il primo è che abbiamo investito tantissimo nel renderla pulita, bella, organizzata, sicura e avere qualcuno che dall'esterno arriva e ci apprezza quello che abbiamo fatto o in alcuni casi addirittura ci critica perché siamo convinti magari di aver fatto bene e per i standard magari di altri settori non siamo poi così bravi come crediamo di esserlo. E quindi questo ci fa scendere un po' coi piedi per terra e ci porta a fare bene. L'altra cosa è che la competizione che noi stiamo giocando, se una volta era su quanti chi litingevi, su quanti metri facevi, oggi la prima competizione, una delle prime competizioni su cui andremo a gareggiare nei prossimi anni è chi ti porti in casa, cioè chi di voi, i migliori di voi vogliamo avere in azienda, non quelli che non sapendo cosa fare alla fine hanno deciso di andare a lavorare nel tessile. No, noi abbiamo bisogno dei migliori. Per poter portare i migliori noi dobbiamo prima di tutto farci conoscere, è uno dei motivi per cui abbiamo aperto le porte. E l'altro tema è farvi vedere che all'interno delle aziende tessili, che dici tessile oggi nella vostra generazione, io ho due figli che fanno quinta per cui sono un po' un inside su certi ragionamenti, tessile no. No, invece tessile sì, a patto che abbia le caratteristiche che vi possa far crescere e farvi maturare. Però per poter dire questo non basta che qualcuno di noi lo dica qua seduto in giacca e vi racconti una storia. È bello farvelo vedere, farvi venire, farvi capire che non è come poteva essere nel dopoguerra, perché c'erano altre esigenze ovviamente. Le aziende sono maturate, sono migliorate e devono dimostrare a voi che possono essere anche accoglienti. Ed è uno dei primi motivi per cui abbiamo deciso di aprire le porte. Quindi far raccontare un po' quella che è la tua anima in sostanza, che è quella che hai appena raccontato. E a questo punto chiedo a Paolo, che magari voi non sapete, ma aziende non soltanto qua a Biel, aziende in giro per il mondo, in Europa e in particolare negli Stati Uniti. Parlando di anima, ci sono anime diverse nell'imprenditore tipo europeo rispetto a quelle di un imprenditore tipo statunitense? Oppure oramai la globalizzazione sta effettivamente livellando anche questo punto di vista qua? Grazie Francesco. Io invertirei la domanda. È l'imprenditore che può agire con il suo spirito la sua anima in ambienti diversi rispetto a quello in cui è cresciuto e nato. L'esperienza mia è sì, in realtà l'impostazione che io ho dato, che i miei collaboratori hanno dato nelle varie imprese che abbiamo avuto, adesso abbiamo Stati Uniti, abbiamo avuto in Indonesia, in Africa e in diversi posti, in realtà noi abbiamo sempre applicato gli stessi criteri, gli stessi valori fondamentali che sono quelli che applichiamo qui nel biellese a Trivero in particolare. L'ambiente cambia, le esigenze delle persone alla fine sono poi sempre quelle. I nostri collaboratori hanno bisogno di poter venire a lavorare con soddisfazione, fare una cosa che capiscono e che è una cosa interessante e che li fa crescere, non solo dal punto di vista economico che chiaramente è uno degli aspetti, ma proprio dal punto di vista della soddisfazione del proprio percorso di vita. Chiaro che l'esigenza base è sempre quella di poter portare a casa un salario per poter mantenere la famiglia, comprare la casa, comprare l'auto eccetera. Ma se uno viene a lavorare, collabora con te, con soddisfazione perché fa parte del tuo disegno, fa parte di un disegno più grosso e quindi di essere il miglior produttore del mondo di questo particolare articolo. Noi per esempio nella Biella abbiamo i tessuti lanieri che sono in assoluto l'eccellenza mondiale, ma per esempio negli Stati Uniti noi produciamo dei tessuti non tessuti di poliestere, quindi di bassissima gamma, che hanno un contenuto tecnologico elevatissimo e i nostri tessuti non tessuti vanno per esempio in parte dello space shuttle. E i nostri dipendenti lo sanno e sono molto orgogliosi di questo tipo di risultato che ottengono con la collaborazione con la nostra azienda. Fanno parte un pochino di un disegno e di una filosofia aziendale che noi abbiamo tranquillamente esportato in tutto il mondo. Le imprese che abbiamo avuto in Kenya fino all'anno scorso, perché poi ho ceduto l'attività, noi facevamo un mestiere completamente diverso perché facevamo alberghi di lusso per Safari di lusso, avevamo i collaboratori che erano dei Masai, adesso ho visto qui diverse foto africane, a parte credo sia Namibia, non mi pare che sia Kenya, i nostri collaboratori Masai alla fine avevano le stesse esigenze base, ma quello che faceva la differenza era far parte di un percorso, di un disegno, di un'azienda, di un progetto che li coinvolgeva, li interessava e gli dava soddisfazione. Partendo, e torno su Marco, partendo da questi concetti molto base, che sono molto base ma molto complessi poi da capire, cioè cosa sta alla base della nostra pancia, che cosa ci porta poi a prendere determinate scelte. Faccio un piccolo passo indietro per spiegare per quale motivo farò una domanda di un certo tipo a Marco e un'altra invece a Paolo, perché sì oggi tutti e due sono degli imprenditori, sono a capo di imprese importanti sul nostro territorio e non, ma hanno un vissuto leggermente diverso, nel senso che Paolo nasce in una famiglia di imprenditori e credo abbia sempre intrapreso questo percorso qua, dell'imprenditore, Marco invece nasce in un'azienda dove, in una famiglia che sì avevano un'azienda alle loro spalle, ma in realtà decide di fare prima un percorso leggermente diverso e poi crearsi una sua carriera professionale e trovarsi oggi a capo di un'azienda che non è quella originalmente della sua famiglia, ma sempre con un ruolo apicale, quindi due percorsi leggermente diversi. Ci ho detto, Marco, a un ragazzo che oggi vuole entrare o si affaccia al mondo del lavoro o deve iniziare a pensare come impostare la sua carriera o la sua vita lavorativa, che consigli daresti. Quali sono, secondo te, delle domande giuste da porsi o dei ragionamenti corretti da fare per iniziare ad avvicinarsi a questo mondo? Ma allora, domanda molto complessa, anche soggettiva da un certo punto di vista, perché poi ognuno l'ha vissuta e la vive a modo suo. Mi collego un po' a quello che diceva prima il provveditore. Intanto bisogna provare e soprattutto non dovete avere paura di sbagliare. Il fallimento che in questi ultimi decenni sta diventando qualcosa di... non si può nemmeno pronunciare, perché è guai se uno finisce su un social che ha sbagliato qualcosa o ha fatto l'outfit o ha fatto qualcosa di non coerente con quello che la moda dice, è un trauma. Per cui quello che vi posso dire è gestite il fallimento. La mia fortuna più grande, quindi che mi ha portato ad avere anche delle grandi soddisfazioni personali, è stata quella che ho avuto la possibilità di sbagliare. Sbagliare con le mie forze, per cui mi sono messo nella condizione di fare degli errori. Ne ho commessi una marea e sono tutti dentro il mio zagno di bagaglio imprenditoriale. Per cui quello che vi posso dire è proprio quello di sbagliare. Quattro anni fa sono stato a Stanford per una visita, c'era un corso sulla gestione del fallimento. Cioè una delle più grandi università del mondo e più importanti università del mondo fa corsi sulla gestione del fallimento. Perché? Perché un business angel per cercare una start-up, per valutare una start-up di qualsiasi genere, uno dei parametri di valutazione è quante volte l'imprenditore ha sbagliato ed è fallito. Per cui prediligono imprenditori che hanno sbagliato, hanno fatto errori rispetto a una start-up che invece è partita da nuovo e non ha commesso nessun errore e non è mai fallita. Questo è significativo perché è proprio sbagliando che si possono ottenere risultati. Per cui la cosa che vi posso dire io è, siate positivi, oggi ho sentito troppe parole negative, soprattutto nella prima parte. Trasformiamo questa negatività in positività, cioè dobbiamo essere positivi. Il futuro c'è, non sappiamo come sarà. Viviamolo bene, viviamo il presente, viviamolo con il sorriso sulle labbra, primo. Seconda cosa, voi avete, se in passato il potere era in mano a chi aveva le informazioni, voi potete immaginare che una volta chi poteva studiare aveva il potere in mano, tutti gli altri non avevano potere. Oggi il successo l'avrà chi sarà in grado di non gestire quelle informazioni, quindi di cancellarle, di fare selezione di quelle informazioni, perché avete purtroppo troppe informazioni. Queste informazioni vi annullano una parte di pensiero e quindi imprenditorialità. Dal mio punto di vista riuscire a fare selezione di tutte le informazioni su cui venite bombardati continuamente, vi metteranno nella condizione di essere più bravo di quello che è seduto a fianco a voi, perché chi non riuscirà a fare questa selezione occuperà tutto il suo tempo per capire qual è la strada giusta. A un certo punto prendetene una, sbagliate, tornate indietro e ne farete un'altra, non è tempo perso. Ecco questo è il consiglio che mi sento di darvi e vi auguro di riuscire a fare un percorso complicato magari, ma sicuramente divertente. Provare, sbagliare, fallire e ripartire. Stessi consigli che daresti a chi vuole intraprendere non un percorso da prete, clericale, come diceva che era la seconda, esatto, la seconda chance di prima. No, ma chi vuole invece fare l'imprenditore? Magari oggi qua tra di noi c'è qualcuno che vuole entrare nel mondo del lavoro e qualcuno invece che vorrà rischiare in prima persona e vorrà magari fare l'imprenditore o vorrà essere imprenditore di se stesso nel senso rischiare in prima persona, ecco, quella che sa la sua carriera. Cosa consiglieresti tu a chi magari vuole intraprendere questo percorso? Ma sai, il ragionamento è che in realtà scegliere di fare l'imprenditore è una pulsione irrefrenabile. L'urgenza di cui parlava il produttore. Se tu hai l'intenzione di fare l'imprenditore non ne vieni fuori perché devi farlo. Quindi, e tra l'altro il biellese, come è stata la mia esperienza, è un produttore eccezionale di imprenditori. Al di là di qualunque prodotto tu faccia, di qualunque tipo di industria o di sviluppo o di impresa ti mette a capo, però in realtà il vero prodotto di eccellenza del biellese sono gli imprenditori, esclusi presenti evidentemente, ma se uno vuole fare l'imprenditore deve per forza fare l'imprenditore, non c'è niente da fare. E qual è il senso di fare l'imprenditore poi base? È che tu hai in mente un'idea che in qualche modo migliorerà la vita di qualcun altro, migliorerà la vita tramite un prodotto più ben fatto, tramite un'organizzazione meglio organizzata e quindi questa cosa qui non te la puoi togliere dalla testa. Il biellese ha alcuni vantaggi e tantissimi svantaggi, ma alcuni dei nostri svantaggi possono anche essere tradotti in vantaggi, perché il fatto che noi siamo mediamente abbastanza isolati, mediamente un pochino fuori dal mondo, con tante più difficoltà, in realtà ci forma proprio da bambini e fino a crescere, ragazzi, ai giovani uomini e giovani donne come siete voi, ci porta ad avere già sulle nostre spalle una capacità di affrontare le difficoltà sicuramente superiore a chi ha la vita molto più comoda. Nel biellese ci sono peraltro strutture che possono darvi una mano a fare l'imprenditore. Banalmente l'Unione Industriale Biellese ha una serie di iniziative tramite il gruppo Giovani Imprenditori a cui potete appoggiarvi per poter proprio tecnicamente farvi dare una mano per diventare imprenditori. Il mio senso è quello, se volete fare l'imprenditore non ve lo togliete dalla testa, quindi in qualche modo ve lo dovete gestire. Ci sono strutture, cercate di utilizzarle, l'Unione Industriale Biellese è più che aperta ad accogliervi, a darvi una mano, a cercare di farvi crescere, di indirizzarvi tecnicamente nella strada migliore, però è una pulsione irrefrenabile da cui non potete sfuggire. Bene, grazie Paolo e grazie Marco. Siamo un pochino in anticipo, quindi io andrei avanti, Vanna giusto? Possiamo andare avanti con la chiacchiera tra noi quattro amici, no? Non grazie. A questo punto, scusa, cosa? Ah sì sì, me lo ricordavo quello, ok. A questo punto chiederai di venire sul palco, prima di tutti Antonio, come dicevo prima, Camurati è un ragazzo che sta finendo adesso gli studi, presidente di B-Young, magari qualcuno di voi lo conoscono, Matteo, che invece è un ragazzo che opera nel settore metalmeccanico e ci racconterà un po' che cosa vuol dire. Stefano Sanna, presidente del gruppo Giovani Imprenditori e Lucia Bianchi Maiocchi, come dicevo, che si occupa in Vitale Barberis Canonico di sostenibilità e rapporti familiari in realtà, anche facendo parte della famiglia. Ok, siamo in un tavolo che vorrei fosse veramente informale, cioè ovvio che qualcosa ci siamo preparati, ma lo scorso giorno i temi che sono venuti fuori sono venuti veramente in una chiacchiera tra amici, ecco, cercando di dare oggi dei messaggi che possono essere utili principalmente a voi che siete seduti qua davanti a noi. Quindi l'idea è quella un po' di andare a pensare a quali potrebbero essere delle domande che dei ragazzi come voi che stanno iniziando un percorso, ne stanno finendo uno, ma sono davanti a una scelta importante su quelle che saranno i prossimi anni, non so se delle risposte ma sicuramente degli spunti. Allora, la prima domanda che ci è venuta automatico fare è, ma in un momento in cui le aziende, come abbiamo detto, stanno perdendo un po' di attrattività nei confronti delle nuove generazioni, ci poniamo un tema che è, quali sono le caratteristiche imprescindibili che l'azienda dei vostri sogni, o nel particolare dei tuoi sogni, dovrebbe avere per essere scelta da un ragazzo, ecco? Ma intanto grazie della domanda e ciao a tutti i ragazzi. Questa penso sia una bella domanda, è una domanda molto interessante, è una domanda che in realtà mi sto ponendo anche io perché sono uno studente e tra l'altro faccio questa bellissima scuola dove ogni anno bisogna fare un'esperienza lavorativa. che credo sia una bella opportunità. E quindi ogni anno, proprio in questo periodo, io e i miei compagni iniziamo a muoverci per cercare di trovare uno stage estivo che parte da maggio e dura qualche mese. E allora ci mettiamo lì, iniziamo a cercare qualche azienda che potrebbe essere interessata ad assumerci per qualche mese e farci fare un'esperienza. E allora ci confrontiamo, ognuno dice, ma io vorrei andare qui perché, io vorrei andare in questa qui perché. E tutto in realtà un po' dipende dalle ambizioni che abbiamo, quali interessi vogliamo sviluppare e non so quali sono le nostre idee, quali sono i nostri progetti per il futuro. Allora anche io ho cercato e sto cercando anche di rispondere a questa domanda perché poi la risposta che mi devo dare e che penso ognuno di noi si deve dare non è una risposta così presa un po' alla buona, velocemente, ci penso un attimo e decido. È una decisione che deve essere comunque ragionata, perché comunque penso che poi quando noi scegliamo un'azienda decidiamo di instaurare un rapporto con questa azienda e di rapporto penso che ne abbiamo sentito parlare tanto questa mattina, soprattutto nella parte del video. Allora io la risposta che mi sono dato è che innanzitutto voglio essere, vorrei essere in un'azienda in cui sono molto motivato. Mi sento partecipe, mi sento coinvolto e è un'azienda in cui magari condivido gli stessi valori che questa azienda porta avanti. Questa è la prima cosa che mi viene in mente. Vedere che il mio impegno che ci metto nelle ore di lavoro con le mie capacità sono le stesse idee che porta avanti l'azienda. Io credo che tantissimi ragazzi che oggi magari decino di lavorare alla Apple, che decino di lavorare a Google è perché stanno portando avanti una missione, un impegno all'interno della comunità aziendale, ma anche verso tutte le persone che ci sono all'esterno e questa è la prima risposta che mi sono dato. E poi che sia un'azienda dinamica che mi dà la possibilità di provare, di sbagliare, che mi sostiene e che se sono bravo e che mi impegno, mi dà anche la possibilità di crescere, di ricoprire i ruoli nel tempo più alti, più importanti e senza avere magari nessun tipo di pregiudizio perché magari c'è gente che ha molta più esperienza di me e io invece sono un ragazzo giovane e prima di poter avere dei ruoli magari di responsabilità devono passare tantissimi anni. Sicuramente l'esperienza è importante, è giusto che esista una certa gerarchia, però credo che sia importante lasciare comunque questa libertà che poi dà anche la possibilità di essere poi, di valorizzare le nostre capacità, i nostri interessi, i nostri talenti di cui abbiamo parlato questa mattina. Quindi sono questi due fattori. Ecco, visto che abbiamo un po' più di tempo rispetto al previsto, ti faccio una domanda fuori da quella che avevamo ragionato, ma se, cioè, personale, nel senso, tu hai adesso elencato due macro temi, no? Da una parte quando pensi a un futuro lavorativo cerchi un'azienda in base a quelli che sono i tuoi valori e quindi cerchi prima di tutto di capire se l'azienda nella quale tu andrai rappresenta i tuoi valori e ok, quindi prima da una parte i valori tuoi e dell'azienda che devono essere in comune, dall'altra la meritocrazia, quindi la capacità di farti fare un percorso meritocratico all'interno della stessa. Due, chiari, semplici o meno, però comunque chiari, come si è arrivato a capire quali erano questi due temi. Nel senso, il confronto con altre persone, rappresentare un'associazione come quella di Be Young, cioè quindi il mettersi in discussione al di là di quello che è il mondo scolastico, ma fare altre cose. Marco prima diceva provare, fare, intraprendere determinate strade, piuttosto poi ti portano a sbagliare, ma è importante provare per arrivare ad avere determinati temi. Piuttosto che i genitori, gli amici, i social, ecco, quali sono le cose, o magari tutte queste, che ti hanno influito nel tuo ragionamento, nelle tue decisioni? Ma, allora, io credo sicuramente che in realtà ci sono più fattori, questo indubbiamente. In realtà, non va più, si va? Sono in realtà delle cose che in realtà, io ho finito il liceo un anno e mezzo fa, quindi non è che siano passati tantissimi anni, era una cosa che credevo già al liceo, nel senso, ho cercato di fare un liceo in cui ero appassionato nelle materie che studiavo per cercare di trarre i maggiori input che i miei professori mi davano e quindi essere coinvolto e fare un bel percorso di crescita durante i cinque anni. E poi, anche nella meritocrazia scolastica, ci credevo molto, ogni tanto litigavo anche con qualche professore, nel senso, poi credo che le mie risposte nascono anche perché non ero che sono una persona abbastanza ambiziosa, quindi dico, scelgo un'azienda dove la meritocrazia è riconosciuta perché ci tengo che i miei talenti, il mio impegno, le mie capacità vengano riconosciuti, questi sicuramente. E sicuramente poi, e questo è un aspetto di cui abbiamo parlato anche sabato durante la giornata di orientamento, che comunque si ricollegano anche questi temi e poi tutta la condivisione che ci sono con le altre persone. Nel senso, io vi racconto questo, la mia prima esperienza lavorativa l'ho fatta da Stefano Sanna quando facevo terza superiore. L'ho lavorato un mese con lui e dico che è stata un'esperienza molto formativa e la conoscenza di Stefano, penso comunque che ora siamo diventati amici, ci sentiamo molto spesso, sia stata una conoscenza molto fortunata perché credo se oggi ho deciso di studiare economia, di fare un certo percorso, come diventare presidente di Be Young, sia anche merito delle persone che ho conosciuto durante il mio percorso scolastico, sia a scuola ma anche al di fuori della scuola. Quindi in realtà credo che poi le persone che conosciamo, vedo anche Cristian, anche Cristian mi ha dato la possibilità di lavorare da lui, ecco, da ogni esperienza ho preso tante piccole cose che ora sto cercando di mettere insieme e di cui cerco di mettere insieme e che mi aiutano a fare questo percorso che spero rimanga sempre con molti stimoli e molto entusiasmante. Credo che il bello di vivere in un territorio come quello di Biella è che ti consente appunto di avere tutta una serie di relazioni molto più semplici piuttosto che vivere in un città molto grande come può essere Torino, Milano, Roma, ancora di più. Sì, infatti questa è una cosa che racconto sempre, perché io, ecco, come l'ho già detto prima, ho questa fortuna di fare questa scuola internazionale dove siamo a 154 nazionalità. Quindi se ci pensate è una cosa molto impressionante, perché i paesi del mondo sono 194 circa, poi dipende più o meno se li riconosciamo in quelli che riconosce l'ONU o in altri paesi. San Marino compresa? San Marino, eh, dipende, ci sono ieri spiegati. Però indicativamente tu puoi trovare persone che vengono a tutto il mondo. E io in realtà sono sia molto orgoglioso di essere biellese e sono molto anche orgoglioso di essere rappresentante quest'anno di Be Young. E quindi con i miei compagni, ne parlo molto spesso, dell'associazione e di quello che facciamo a Biella. E tanti miei compagni che arrivano da New York, arrivano da Sydney, arrivano da tutto il mondo, mi invidiano questa cosa, perché mi dicono ma a New York hai qualsiasi cosa, a Dubai hai lo ski dom e sci nel deserto, ma non esistono associazioni giovani di questo tipo. A New York è quasi impossibile che si crei un tavolo con l'unione industriale dei ragazzi delle scuole, dei ragazzi che rappresentano il terzo settore e a volte magari anche la politica al sindaco. E quindi questo credo sia una grossa fortuna, la possibilità di conoscerci, di confrontarci, dove molto spesso, e penso che l'esempio sia oggi, non ci sono pregiudizi verso di noi. Nel senso, oggi a un tavolo dell'unione industriale hanno chiamato me che ho vent'anni e in realtà non avrei quasi nessuna competenza per venirvi a parlare. Però abbiamo detto conosciamoci, condividiamo idee, condividiamo progetti e cerchiamo di costruire qualcosa insieme. Quindi questo credo sia un grosso valore aggiunto del territorio e di vivere a Biella. Eh, magari... bravo. Magari sul tema del territorio, visto che credo sia un tema importante per tutti noi che siamo qua oggi, lo riapprofondiamo dopo. Ma a proposito di valori, invece, prima hai parlato di, appunto, valori, di etica che devono essere in linea con quelli che sono i tuoi, nell'azienda dei tuoi sogni. E allora mi giro da questa parte del tavolo di qui e guardo Lucia e chiedo, voi credo che come azienda Vitale Barberis Canonico siate un po' un esempio per molti nuovi imprenditori, no? Sotto il punto di vista di quello che è stato fatto e di quello che state facendo e immagino di quello che farete. Quanto i valori sono fondamentali, ecco, in un'azienda come la vostra, come mezzo di attrattività perché c'è al di fuori della vostra azienda o magari perché c'è al di dentro della vostra azienda, ecco. Grazie Francesco e ciao a tutti. Adesso, se cominciamo a parlare di etica, innanzitutto ringrazio Francesco e spero che non ci siano professori di filosofia qua dentro perché sennò ho un due assicurato, ma speriamo di no. I valori sono fondamentali e se parliamo di etica come insieme di regole di comportamento che si basa su dei valori e allora oggi noi ne abbiamo sentiti tantissimi di valori, abbiamo sentito delle parole meravigliose dagli straordinari imprenditori di prima. La prima che ho sentito era le persone, le persone che è il valore dell'impresa fondamentale perché senza le persone l'impresa non ha proprio senso di esistere, ma ce ne erano tantissimi altri che sono, me li ricordo, me li ero anche scritti perché mi prendo sempre gli appunti come se fossi a scuola, identità, si è parlato di prendersi cura, si è parlato di comunità, io ci aggiungerei anche responsabilità nei confronti delle generazioni future, correttezza, insomma ce ne sono tantissime. Ora è ovvio che fare impresa, il fine ultimo, non mentiamoci, il fine ultimo di fare impresa è sempre generare un valore economico, quello è l'obiettivo, ma è come scegli di raggiungere l'obiettivo che ti determina il modo di fare impresa e quindi se ci sono dei valori nell'impresa innanzitutto i valori aiutano perché sembrano delle cose astratte ma non è vero, perché i valori servono tutti i giorni. Io vi faccio un esempio, quando noi facciamo delle scelte io mi occupo di sostenibilità, quando con l'amministratore delegato decidiamo degli investimenti importanti da fare in sostenibilità che non hanno un ritorno economico immediato sarebbe più facile dire no vabbè lo facciamo l'anno prossimo e invece no, con serenità noi decidiamo no, questi investimenti li facciamo quest'anno perché abbiamo questa cosa della responsabilità che ci balza della testa e quindi riusciamo a spendere dei soldi in più con più fiducia ma anche aiuta i nostri collaboratori. Abbiamo parlato prima di correttezza. Quando una persona lavora da noi io faccio l'esempio per esempio che è facile magari da capire del responsabile della qualità. Quando magari un cliente va da lui e dice guarda questo tessuto ci abbiamo fatto delle giacche che ha un difetto secondo noi è colpa vostra magari per noi non è vero il responsabile della qualità si trova lì a dire adesso cosa faccio ma sapendo che la correttezza è un valore che condivide con l'impresa e con se stesso allora con serenità lui può dire guarda c'è un dubbio io do ragione al cliente anche se faccio un danno economico all'azienda faccio un danno anche a me stesso perché magari mi è scappato qualcosa ma non importa perché il valore di correttezza è più importante e questo aiuta perché il cliente quando riconosce questo il giorno dopo torna e lo ascolta con molta più fiducia e aiuta un po' in tutto avere dei valori sono una specie di traccia e la roba geniale è che quando un'impresa condivide è costruita e agisce su dei valori che sono condivisi con le persone che lavorano quindi con tutti quanti e con l'organizzazione si trasforma in un'altra parola che avete usato tantissimo e che ha usato mi pare anche Antonio prima che è fiducia e sto parlando della fiducia non soltanto in se stessi ma anche nel proprio lavoro e in quello dei collaboratori quello dei colleghi quello dei capi e anche anche di fiducia nelle persone a cui ha affidato un lavoro quindi fiducia proprio nell'impresa e casomai che per loro nasca anche un po' di fiducia del futuro e quindi appartenenza alla fine si sentono anche probabilmente appartenenti a tutto ciò il fatto di condividere condivisione condivisione di intenti e di valori e credo che nonostante lo scopo dal quale nascono tutti questi valori non sia quello economico alla fine oggi investire su tutta questa parte che sta sopra e che non vedi un ritorno immediato economico in realtà sul lungo probabilmente è proprio quello che genera un valore economico dell'azienda non probabilmente nel breve ma probabilmente nel lungo ecco quello che differenzia dagli altri è quello che dal mio punto di vista credo possa continuare a far sì che il Made in Italy resti il Made in Italy che oggi è conosciuto nel mondo quindi un'eccellenza investire nei valori io penso di sì i valori sono una guida ma l'investimento nel valore poi lo vedi negli anni e uno dei nostri valori è quello di appunto generare valore che poi passi alle generazioni successive per noi ha funzionato così speriamo che continui a funzionare così altrimenti in cosa credi? l'altro tema che invece hai trattato era quello della meritocrazia allora passiamo dal tuo vecchio datore di lavoro Stefano Sanna quanto la meritocrazia e come la meritocrazia è un valore fondante in un'azienda? ma allora siamo nella settimana della cultura d'impresa e dobbiamo definire che cosa intendiamo con cultura d'impresa perché non è solo mecenatismo ma è un sistema di valori che in primo luogo chi è imprenditore chi appartiene a questa associazione si deve sentire impegnato e si deve impegnare a portare avanti a diffondere nella società in questo sistema di valori ci sono la passione per l'innovazione la fiducia nel progresso tecnico scientifico l'attitudine all'eccellenza ne parlavamo qui due settimane fa con la giornata dell'eccellenza promossa dal dal Bona ci sono anche c'è anche tutta quella sfera che riguarda il merito la valorizzazione del merito l'individuazione dei talenti perché anche questa è una cultura a sé stante perché parole come eccellenza come merito non devono essere delle etichette devono essere dei termini che noi riempiamo i quali noi diamo dei valori del valore interpretandoli con i nostri comportamenti quando si parla di eccellenza l'eccellenza non è il perfezionismo il perfezionismo non è un valore il perfezionismo molto spesso si tramuta in efficienza individuare il merito individuare il talento coltivarlo e premiare il merito non è solamente premiare il risultato ma è un percorso che si costruisce si costruisce innanzitutto cercando di offrire più opportunità anche con attività come quelle che proponiamo come gruppo giovani come unione come unione industriale perché altrimenti se io mi fermo solo a premiare il risultato io rischio di non sapere differenziare la fortuna dal merito faccio un esempio con Antonio in questi mesi che ci siamo impegnati per l'organizzazione di Wow ci sentivamo quasi tutti i giorni ci siamo sentiti quasi tutti i giorni anche più volte al giorno e quanti di voi sono andati a Wow quanti di voi sono andati a Wow sulle mani su 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 le mani su le mani eh pochini eh prossimo anno bisogna investire un po' di più ok beh sono quarte ma c'erano ragazze di quarta comunque ok ok scusa ti ho interrotto sappiamo che abbiamo dei margini di miglioramento il risultato c'è stato ma abbiamo dei margini di miglioramento meno male perché altrimenti sarebbe stato difficile fare meglio ma a parte questo eh ci confrontavamo su come fosse meglio fare le cose dove ci potessero essere dei problemi solamente forse l'ultimo giorno ci siamo chiesti ma quanta gente ci aspettiamo quale risultato ci aspettiamo e non perché non fosse una preoccupazione perché il risultato è sempre importante tutti lavoriamo per un risultato però io ero sicuro che loro avessero fatto del loro meglio ne ero certo li avevo seguiti passo a passo e sapevo anche che se il risultato non ci fosse stato avevano un metodo così solido che sarebbero stati in grado di individuare quali erano state le cause dell'insuccesso per cui qua sicuramente c'era del merito il risultato è arrivato dopo è stata una conseguenza e queste sono dinamiche che come riguardano la vita associativa o l'interazione fra due associazioni la realizzazione di un progetto sono dinamiche che si vedono anche in azienda perché il merito il talento per essere riconosciuti essere premiati richiedono un forte impegno umano quando io ho detto come è stato organizzare Wow è stata un'esperienza umana veramente perché tanto che qualcuno nei saluti istituzionali ha detto ho trovato un gruppo di amici dal tavolo dell'organizzazione anche l'imprenditore non dico che debba essere amico con indipendenti necessariamente gli amici sono un'altra cosa l'amicizia è una cosa bellissima però non bisogna confonderla quando c'è un rapporto professionale ma sicuramente bisogna riconoscere l'importanza del lato umano di quando uno è imprenditore dirigente d'azienda perché è solo così che può coltivare intercettare quel sogno anche quell'istinto all'imprenditorialità che magari arriva più avanti con l'età ma che porta una persona a individuare delle innovazioni coltivare dei progetti anche al di fuori di quello che è il suo incarico quindi io dico il merito è senz'altro un valore non penso che non lo può non essere per un imprenditore nella sua azienda è come se un imprenditore oggi venisse a dire per me il mercato non è un valore per me la concorrenza non è un valore l'innovazione non è un valore non sarebbe una risposta semplicemente lui che non è un imprenditore probabilmente però il come facciamo gli imprenditori riguarda anche come intendiamo il merito che significato vogliamo dare a questa parola quindi questa è un po' la mia visione sul punto so che molte volte merito competitività lobby che è poi il lavoro che fa Confindustria vengono viene dato un valore un'accezione negativa come se dovesse avvenire sempre un qualcosa spese di qualcun altro ecco non è così però se non vogliamo che venga interpretato così dobbiamo con le nostre azioni col valore delle nostre azioni riuscire a rompere un po' questi tabù ecco quindi grazie grazie Stefano torno da questa parte della tavola e invece chiedo a te che invece hai già finito un percorso di studi e hai iniziato sei entrato nel mondo del lavoro da quanto tempo? sono quasi tre anni ecco sono quasi tre anni e in che settore lavori tu? settore metameccanico e in particolare tu lavori da Hyperbeck giusto? sì che è una società di biella ok ci ho detto quali sono stati a loro e magari quali sono ancora oggi come ho chiesto a lui prima i due elementi fondanti per farti scegliere un'azienda o che reputi importanti ecco per chi come loro dovranno poi scegliere un percorso lavorativo sì allora innanzitutto ciao a tutti allora al momento della scelta del lavoro i due fattori che sono stati distintivi per la scelta del lavoro sono stati il dinamismo ovvero la possibilità di avere un percorso di crescita dinamico delle competenze nell'azienda e la creatività il dinamismo lo intendo come la capacità più che la capacità la possibilità di non fare una sola attività una mansione un lavoro in maniera ripetitiva ma la possibilità di svolgere più lavori diversi che però in realtà sono collegati tra di loro perché messi in una sequenza alla fine possono essere sono alla fine la catena di produzione da partire dalla materia prima a quello che può essere il prodotto finito e questo per me è importante è molto importante perché mi permette di capire a pieno quello che è il lavoro che sto facendo e ti dà una versatilità che è molto ampia in quanto uno poi alla fine è in grado di fare un po' di tutto e quindi questo per me è una grandissima soddisfazione il fatto che ad esempio se manca qualcuno di poterlo sostituire o se c'è la necessità di passare da una mansione all'altra in più credo che ti consenta di capire quello che ti piaccia di più un po' quello che diceva di nuovo Marco prima c'è il fatto di provare sbagliare fare più cose assolutamente anche perché un ragazzo di mi ricordami quanti anni 21 quasi 22 e quando sei entrato in azienda avevi 19-20 anni ecco quindi non è assolutamente detto che un ragazzo di 19-20 anni sappia cosa vuol fare esatto quindi avere un'azienda che ti consente di provare spostarti da una mansione all'altra per imparare ha anche quest'altra faccia della medaglia positiva che ti consente di arrivare a capire meglio quale che sono le tue attitudini le definirei sì esatto permette anche di capire quali sono le cose che puoi migliorare da una cosa all'altra capire quali che sono le problematiche che magari un'attività può portare a quella successiva e quindi cercare di migliorare le proprie competenze il lavoro che si fa e poi la qualità di quello che si va a realizzare e l'altro tema invece che toccavi prima era la creatività la creatività per me è fondamentale è stato il fattore principale perché io sono generalmente quando uno pensa di lavorare in un'azienda metalmeccanica la creatività non è per forza il primo infatti bisogna sdoganare questo tema che delle volte viene toccato anche a scuola che in realtà il settore metalmeccanico non è un settore in cui è tutto cioè a scuola ad esempio quando andavo io alcuni dicevano creatività zero in realtà non è vero perché sì c'è un disegno sì ci sono delle norme da rispettare però alla fine ti dicono come va fatto il pezzo ma alla fine come lo realizzi non te lo dicono appunto è il fattore umano che poi si mette lì si ingegna per poter realizzare il prodotto infatti per questo è per me la grande soddisfazione il fatto che quando c'è qualcosa da realizzare dover sviluppare delle tecniche dei metodi di lavoro talvolta costruire attrezzature perché molto spesso sono pezzi anche complicati e il fatto di sapere poi che questi pezzi che vai a realizzare vanno in giro in Italia in Europa nel mondo è la più grande soddisfazione ecco la creatività è un qualcosa che c'è nella metalmeccanica ma credo che sia una parte fondante anche del settore principe se vuoi del territorio che è il tessile no Lucia assolutamente ci racconti qualcosa di come la creatività e il settore tessile possono fondersi insieme certo grazie etica e creatività sempre le domande facili alle donne ragazze ricordatevele perché è sempre così ma allora io la creatività nel tessile ma anche in ogni lavoro l'aggiungerei a un'altra parola che è quella che è la passione perché veramente io sono faccio parte di una famiglia imprenditoriale quindi dico sempre che mi sento nata oddio spero di essere nata anche un po' brava ma soprattutto sono nata fortunata quelli veramente bravi che trovo sul lavoro sono quelli che lavorano e che hanno dentro questo fuoco di cui si parlava prima creatività e passione e non so io lavoro con un ingegnere una giovane ingegnera chimica che ogni tanto viene e mi racconta con questo amore questi occhi fintillanti di come ha trovato questo nuovo modo per trovare le analisi delle acque del depuratore in entrata e in uscita io la guardo sbalordita ma in realtà effettivamente sono molto fortunata che ci sia perché è bravissima e cara grazie che fa così e poi volevo anche raccontare un'altra cosa quando sono arrivata in azienda con la mia laurea in Bocconi con questa cartella piena di metodi di formule ero convinta di spaccare il mondo poi ho cominciato a vedere i problemi e i problemi in azienda ti arrivano e nel lavoro non c'è il metodo e non ci sono le soluzioni il metodo e le soluzioni te le devi inventare tu come diceva Matteo noi facciamo tessuti vestiamo le persone più eleganti nel mondo ma questo tessuto che sta nell'abito della persona più elegante del mondo magari non so a Bogotà l'ha creato un disegnatore con la sua creatività ma poi quello che l'ha cominciato a studiarlo bene quello che compra le lane dice ma no forse la lana dell'Australia magari proviamo a metterci quella del Sud America che è un'altra caratteristica un po' e si inventa un modo e il tintore forse così se lo tengo così il colore più brillante e il tessitore un nuovo modo di tessere meglio il filatore prima il finissaggio il finissaggio visto che ne abbiamo uno qua ma poi questo tessuto lo devi promuovere quindi c'è il marketing e come lo promuoviamo un tessuto che non abbiamo prodotto finito troviamo un modo e poi c'è il modo di venderlo e poi c'è il modo di trasportarlo e quindi diciamo che la creatività di ognuno si deve fondere con la creatività di tutti la creatività che è la massima espressione umana è un po' il colore e invece l'impresa è la tela per cui il colore di ognuno deve prima di tutto trovare la tela giusta per sé e poi fondersi con tutti gli altri colori a quel punto sì che viene fuori un capolavoro ed è il capolavoro di tutti che va in giro intorno al mondo è un po' che Matteo credo che tu l'hai spiegata io l'ho rivista questa cosa quando raccontavi della creatività in un lavoro che non sembra tanto creativo non so se se ne sei consapevole ma quello che hai raccontato adesso cioè la seconda parte il fatto di mettere a fattore comune tutta una serie di persone di mani che creano un determinato tessuto sono quella la parte creativa cioè la creatività di tutti è l'elemento che ha consentito a Biella di vincere come città creativa unesco cioè l'elemento distintivo che ha reso possibile diventare città creativa unesco a Biella 3, 4, 5 anni fa adesso non mi ricordo più è stato proprio questo il fatto che Biella non è un pezzo ma Biella è un insieme di persone un insieme di figure un insieme di mani di testi di cuori di pensieri che ragionano tutte all'unisono per creare tutti insieme qualcosa di estremamente creativo bellissimo perché è vero principalmente l'altro tema che hai toccato invece era il dinamismo fammi dire orizzontale cioè provare avere un'azienda che ti consente di ricoprire più ruoli di farti sporcare le mani facendo più cose possibili per imparare sì ma per capire quali possono essere le vie giuste da percorrere Stefano cosa hai da dirci su questo tema ma allora quando parliamo di dinamismo io parto sempre dal presupposto che negli ultimi tre anni di storia insomma con la pandemia la guerra in Ucraina insomma sono accaduti i fatti che solitamente si verificano in dieci per cui abbiamo subito un'accelerazione della storia arrivavamo già da un periodo non facile perché comunque dopo la crisi del 2011 il sistema produttivo italiano specie quello manifatturiero ha subito una selezione naturale spietata possiamo dire che ha anche coinvolto aziende che dal mio punto di vista potevano anche esprimere del valore per delle cose che sono state più grandi di loro questa ennesima crisi inizialmente io mi ricordo era vista con molta preoccupazione si temeva che avrebbe fatto molta più danni di quella precedente in realtà non li ha prodotti non li ha prodotti perché avevamo un sistema produttivo che era già stato molto selezionato e provato dal passato e che era diventato molto più dinamico e il dinamismo in azienda è innanzitutto capacità di adattamento alle condizioni esterne diciamo nelle quali noi ci troviamo a competere quello che è lo scenario competitivo le imprese italiane oltretutto hanno dovuto sviluppare un dinamismo pazzesco perché questo paese è conosciuto per tante belle cose sicuramente non per la semplicità di fare impresa per cui è dinamismo e capacità di adattamento anche quella possiamo dire ma a parte questo è senz'altro un fattore competitivo chiave capacità di adattamento e capacità anche di adattarsi rimanendo protagonista facendosi interpreta e rimanendo protagonista dei cambiamenti che avvengono e in questo caso abbiamo vissuto dei cambiamenti relativi allo scenario economico quindi l'aumento del costo del denaro l'aumento dei costi delle materie prime e dell'energia i colli di bottiglia la diffusione di nuovi modelli organizzativi pensiamo allo smart working che non è lavorare da casa è una sfida organizzativa incredibile e in futuro nei servizi diciamo c'è un discorso che pare più facile nella manifattura è molto più complessa ma sicuramente sarà una parte del futuro della manifattura interpretare questi cambiamenti con successo richiede una capacità dinamica di adattarsi e di interpretare lo scenario fondamentale per rimanere in vita per essere sostenibili innanzitutto dal punto di vista economico perché abbiamo visto che passa da lì anche la capacità di attrarre capitali pensiamo ai finanziamenti agevolati che ci sono su tutta una serie di missioni poi si può ragionare sulla coerenza o meno di come questi obiettivi ambientali o di sostenibilità vengono fissati ma tanto è questo e anche la capacità di riuscire a mettere in campo dei modelli organizzativi che permettono le persone ad esempio di lavorare anche a distanza di godersi di più una parte della loro vita con tutti i limiti del caso ma sono un fattore chiave comunque per riuscire a trarre tutta una serie di talenti io non ero un fan dello smart working all'inizio anzi penso comporti ancora oggi dei problemi notevoli specie per chi inizia a lavorare però questo non vuol dire che lo si possa rifiutare una risposta bisogna darla e pensiamo ai due cambiamenti quindi che sono in corso in questi anni uno è la digitalizzazione la digitalizzazione non è solo comprare un software il software è lo strumento la cassetta degli attrezzi ma poi è innanzitutto una sfida organizzativa impone un cambiamento nel modello di pensare la transizione ecologica la transizione energetica quindi la sensibilità rispetto a tutta una serie di obiettivi e di effetti collaterali che produce l'attività di impresa e cambiamenti riguardanti la possibilità che io ho di approvvigionarmi di energie e di materie prime sappiamo che fino ad oggi è prevalso almeno in Europa negli Stati Uniti è un discorso un po' diverso un approccio concedetemi il termine di regista sono stati imposti degli obiettivi alcuni più o meno coerenti non è molto chiaro ancora chi debba pagare questa transizione ok perché non sono stanziate risorse sufficienti oggi possiamo dirle se quelli sono gli obiettivi che vogliamo raggiungere e di fatti si notano già tutta una serie di incongruenze ma dinamismo significa per un'associazione come la nostra come Confindustria riuscire a partecipare ai tavoli di lavoro facendo lobby però portando a questi tavoli di lavoro centrali dell'amministrazione centrale che siano Roma che siano Bruxelles il nostro saper fare la nostra conoscenza della filiera direttamente al legislatore perché molte volte questo tassello manca per cui dinamismo è anche riuscire ad adattarsi rispetto a quella che è una narrazione prevalente in certi periodi per correggerla se effettivamente l'obiettivo finale non è solamente un qualcosa di scritto su un foglio ma è preservare il pianeta certamente ma anche preservare il nostro sistema produttivo che è un tassello fondamentale dal punto di vista sociale perché la sostenibilità non è solo ambientale e anche sociale queste sono diciamo due rivoluzioni sulle quali si può parlare di dinamismo ma siamo già piuttosto avanti ce ne sono poi altre due dove invece la partita si sta cominciando a giocare adesso e siamo un po' in ritardo forse una è la sfida demografica perché comunque è un'emergenza pazzesca un paese che invecchia difficilmente si può pensare che possa diventare più ricco e questo mette in discussione tutta una serie di garanzie anche sociali che ci eravamo date e qui le imprese si sentono sicuramente in prima fila nell'agevolare soprattutto il lavoro gli impegni di chi ha figli perché comunque è una fase della vita delle persone e questa dato che l'impresa è fatta di persone di questo bisogna prendersene atto e modificare la propria organizzazione e poi sicuramente dato che è un momento con così tanti cambiamenti sempre più veloci non dico che l'esperienza sia meno importante ma sicuramente diventa importante anche l'attitudine al rischio e da qui viene anche la necessità di diffondere nelle nuove generazioni l'imprenditorialità e l'attitudine al rischio come dei valori perché oggi anche quando si fa l'università io ho studiato economia si studia quello che è il management la gestione l'imprenditorialità è un'altra cosa che può essere probabilmente fatta solo dagli imprenditori per cui Confindustria è un ente proponente non possiamo dire che fa lobby perché qua in Italia è un ente proponente che sembra più elegante se l'obiettivo se l'obiettivo di Confindustria numero uno è la crescita economica quella dei gruppi giovani nelle varie territoriali nelle varie regioni deve essere dal mio punto di vista sicuramente il diffondere la diffusione dell'imprenditorialità e questo spiega buona parte diciamo del nostro impegno che è partito da Francesco tanti anni fa su formazione orientamento che ancora oggi continua portando i ragazzi nelle classi e sempre più noi nelle scuole abbiamo quindi chiesto ai ragazzi quali potevano essere gli elementi cardine da cercare all'interno di un'azienda e sono venute fuori l'etica e i valori dell'azienda da una parte la creatività un dinamismo visto con due sfaccettatori diverse cioè una a livello di crescita uno invece a livello di crescita orizzontale non per forza di carriera ma di competenze questi quattro macro temi qua Lucia c'era c'è qualcosa che ti aspettavi venisse fuori in maniera diversa al di là di questi quattro temi oppure te li immaginavi ecco ti aspettavi che venissero fuori questi quattro temi qui ma sì sicuramente le nuove generazioni hanno delle priorità nella scelta del lavoro quello che non ho visto emergere è nessuno nessuno ha nominato la stabilità del lavoro la sicurezza economica forse l'ha nominato Paolo Barberis Scannonico Prima ma i ragazzi non l'hanno neanche menzionato allora volevo chiedere a Matteo che è un po' che lavora come mai questa cosa non viene fuori se viene data per scontata oppure non ha più un peso se invece ha un peso quello quanto peso ha? Allora grazie per la domanda per quanto riguarda la stabilità economica penso a due aspetti principali da un lato diciamo economico per una stabilità economica per un futuro per un domani per avere una famiglia quindi il fatto del sapere di avere un lavoro stabile è già diciamo una sorta di garanzia per un domani da un altro lato il fatto di come nel mio caso aver trovato un lavoro che mi piace molto mi rendo orgoglioso in un ambiente sereno con delle persone splendide il sapere che un domani questo rapporto lavorativo potrebbe cessare mi dispiacerebbe molto invece per quanto riguarda la sicurezza economica diciamo che io prendo il mio caso al momento di scegliere il lavoro è una delle cose che ho messo in secondo piano perché il mio obiettivo è quello che penso di aver raggiunto è quello di trovare un lavoro che mi rendesse orgoglioso fiero di quello che faccio e che mi facesse alzare la mattina contento di andare a lavorare e io penso di aver raggiunto questo obiettivo e quindi è un consiglio che mi sento di dare a tutti i ragazzi qui presenti ovvero quello di al momento della scelta del lavoro di approcciarsi al mondo del lavoro quello di mettere un po' in secondo piano queste cose ma importante secondo me è quello di innanzitutto la base è trovare un lavoro che si ama fare che uno ci mette tutto il suo impegno cerca di imparare è curioso e vuole proprio imparare un mestiere poi queste cose secondo me vengono con il tempo man mano che una persona acquisisce esperienza diciamo che poi la paga la retribuzione viene di conseguenza alle competenze che acquisisce nel tempo ti ringrazio grazie però Francesco a questo punto vuol dire che c'è un cambio di paradigma delle imprese e che le imprese su questo devono lavorare molto è sicuramente un cambio di paradigma anche perché oggi credo che la stragrande maggioranza delle imprese creda ancora che quelli siano gli elementi distintivi ecco per qualcuno per poter scegliere un percorso in realtà oggi è venuto emerso proprio esattamente l'opposto credo e spero che lo condividano anche loro ecco questo tema visto che abbiamo ancora qualche minuto tre per l'esattezza a meno che siano in ritardo da Roma Stefano tu hai trovato qualche tema particolarmente interessante tra quello che abbiamo toccato che vorresti approfondire o che non abbiamo ancora toccato e che vorresti riprendere oppure oppure no sì 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 assolutamente faccio una domanda ad Antonio a dire il vero gliel'ho già anticipata mi ha dato una risposta alla quale io ho ribattuto in un modo che non si può riportare diciamo davanti a una platea perché gli ho chiesto ma cosa dobbiamo fare per riportarti qua lui è sicuramente molto in gamba può diventare sicuramente un manager molto in gamba la mia sfida è farlo diventare un imprenditore quindi cosa dobbiamo fare lui mi ha detto ma guardami dai 300 mila euro all'anno io ci torno qua molto volentieri non posso rispondervi non posso dirvi cosa gli ho risposto a parte lo sketch a parte lo sketch di questa mattina faccio una domanda ad Antonio perché è più è a contatto sicuramente con più giovani di quello che lo siamo noi per quanto ci possiamo impegnare ha più il polso della situazione quali sono le cose che possiamo fare affinché i giovani possano trovare la giusta motivazione per tornare su questo territorio la giusta motivazione o le cose che dobbiamo raccontare alle quali sicuramente sono sensibili o le cose le quali dobbiamo lavorare ma allora questa è una bella domanda alla quale in realtà una volta ho già provato un po' a rispondere e avevamo parlato di attrattività cioè come essere attratti via Biella verso l'esterno io adesso sto facendo un bellissimo percorso e sto viaggiando ogni anno cambio città è una esperienza incredibile poi io mi innamoro facilmente quindi sono arrivato a Parigi e ho detto boom la città più bella del mondo vivrò qui poi sono andato a Milano ho detto no 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 Milano è la città più bella del mondo vivrò qui adesso andrò a Londra penserò alla stessa cosa e vedremo un po' e questo un po' perché le città il mondo dove si va è sempre bello ci sono sempre un sacco di stimoli io quando sono partito l'anno scorso ho detto boom ho fatto il liceo classico quello che viene detto il più difficile avevo dei voti altissimi sono stato membro di un'associazione giovanile di qua di là arrivo il primo giorno becco un mio compagno giapponese che arriva da Tokyo mi vanto di tutte queste cose lui mi guarda e mi fa ah beh io invece ho una società di consulenza con dieci dipendenti boom ammazzato il primo giorno ho detto abbassiamo le ali e iniziamo a pedalare quindi in realtà se io devo parlare per me in realtà per un po' di anni mi piacerebbe continuare a girare e vedere il mondo mi piacerebbe in realtà uscire anche dall'Europa perché ad esempio sono stato in Francia e di fatto quando diciamo che siamo cugini è abbastanza vero adesso tutte queste differenze culturali non le ho viste nel senso bisogna farlo a piccoli step si inizia così questo in realtà è un invito che io faccio io penso di essere cresciuto tantissimo ho ritrovato un sacco di stimoli quest'anno e quindi in realtà l'amore per la città secondo me poi non si traduce soltanto nel tempo che passiamo a Biella si traduce poi nelle azioni e quanto ci impegniamo quando siamo qui in quello che facciamo perché uno può anche vivere fare le scuole a Biella lavorare a Biella poi non fare niente per la città e quindi mi chiedo cosa serve forse anche se uno va via impara delle cose e poi le capacità le mette a disposizione questo è un bellissimo percorso allora per rispondere alla domanda io prima ho sentito parlare di orgoglio di motivazione e penso che questi siano i temi che credo in realtà un giorno mi riporteranno a Biella un po' ne ho risposto io prima quando ho detto siamo una città piccola possiamo fare comunità possiamo collaborare e io in queste cose ci credo tantissimo nel senso l'orientamento di sabato che abbiamo organizzato insieme a tutti i nostri partner e tra cui c'era anche Be Young è un'associazione di ragazzi che hanno tra i 16 e i 21 anni quindi potremmo essere noi e per tre mesi ci siamo impegnati e abbiamo portato a studi 1100 persone che non è un numero scontato e tante quante persone? 1100 e la cosa più bella non è questo numero ma è che alcuni ragazzi alcuni li conoscevo alcuni no sono venuti da me o da altri ragazzi di Be Young e ci hanno detto grazie di averlo organizzato perché ad esempio c'era una lezione simulata di farmacia e una ragazza ha detto oggi ho deciso che mi iscriverò a farmacia e allora io mi sono detto se It's My Life non l'avessimo fatto noi magari lo organizzava qualcun altro o magari non lo organizzava nessuno e se non avesse organizzato nessuno quella ragazza magari adesso sarebbe lì a dire cosa faccio del mio futuro sono piena di ansia non so cosa fare allora sapere che noi possiamo avere un impatto sulla vita delle altre persone sulla comunità in cui viviamo e sapere che a Biella che è un territorio che amo c'è la possibilità di farlo penso che sarà il motivo che mi riporterà a Biella beh è così è così io ho avuto un percorso simile al tuo nel senso che anch'io ho studiato a Biella poi sono andato fuori da Biella sono studiato via da Biella ma mi mancava il fatto di non poter avere un impatto concreto visibile tangibile su qualcosa poi in realtà io sono entrato nell'azienda di famiglia e lì ho iniziato a lavorare eccetera eccetera ma riuscire ad avere un collegamento con un territorio e poter è la stessa cosa che stiamo facendo tutti e tre che hanno fatto prima Marco e Paolo prima riuscire ad avere la consapevolezza che nel bene o nel male quello che tu fai all'interno di un territorio può impattare sugli altri è un qualcosa che ti dà tantissima responsabilità senso di appartenenza ma allo stesso tempo una grande forza energia che vedo difficile con le persone con le quali parlo che vengono da fuori Biella o da città più grandi ottenere in altri luoghi buon pranzo e buona giornata a tutti ciao 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 grazie